Il lupo dei mari Capitolo 1 Non so nemmeno da che parte incominciare la narrazione di queste mie avventure, benché qualche volta, scherzando, dia la colpa di tutto Charlie Fawcett. Costui aveva una casa di campagna nella Mill Valley, all'ombra del monte Tamalpais, e non l'occupava che nei mesi d'inverno, quando vi andava a leggere Nietzsche e Schopenhauer, per riposarsi il cervello. D'estate, poi, preferiva restarsene in città a sudare e impolverarsi, lavorando senza posa. Avevo presa l'abitudine di recarmi da lui, quando si trovava in campagna, tutti sabato nel pomeriggio, trattenendomi fino a lunedì mattina. E, senza di ciò, non mi sarei trovato in navigazione attraverso la Baia di San Francisco, in quel preciso lunedì mattina del mese di gennaio. Era a bordo di un battello sicuro, che il Martini era un piroscafo nuovo, giunto solamente alla sua quarta o quinta passeggiata fra Sausalito e San Francisco. Il pericolo stava nella fita nebbia che copriva la Baia, e che mi, poco pratico di cose del mare, destava qualche preoccupazione. Infatti ricordo con quale vago malessere andai a mettermi sul davanti del ponte superiore, addirittura sotto la cabina del pilota, indagando il mistero di quella bruma che occupava tutta la mia fantasia. Soffiava una brezzolina fresca, e per qualche tempo fui solo nella semioscurità, ma non proprio solo, avvertivo inconsciamente la presenza del pilota, ed un'altra persona, che pensai fosse il capitano, nella cabina vetri sopra il mio capo. Rammento che pensavo come fosse comoda questa divisione di lavoro, che rendeva a me inutile lo studio delle nebbie, dei venti, delle maree, di tutto quello, insomma, che è la navigazione, per recarmi a visitare un amico che viveva al di là di un braccio di mare. Era un bene che gli uomini si fossero specializzati nel loro lavoro, pensavo, le particolari conoscenze del pilota e del capitano bastavano per molte migliaia di persone che di cose del mare e della navigazione ne sapevano quanto me. Mentre, dal mio lato, invece di dovermi dedicare allo studio di una moltitudine di cose, concentravo le mie energie su alcune cose particolari, come, ad esempio, l'analisi del posto spettante al Poe nella letteratura americana, argomento d'un mio saggio stampato nell'ultimo numero della rivista Atlantic. Venendo a bordo, mentre attraversavo il salone dei passeggeri, avevo notato un grosso signore che leggeva l'Atlantic, aperto proprio sul mio saggio. E ciò dimostrava parimenti la divisione del lavoro, giacché, mentre il pilota e il capitano, grazie alle loro particolari cognizioni lo trasportavano, senza rischio, da Sausalito a San Francisco, il grosso signore poteva prendere le mie cognizioni particolari sul Poe. Un uomo dalla faccia rossa, sbatacchiando dietro di sé l'uscio della cabina, e zoppicando sul ponte, interruppe le mie riflessioni, mentre stavo prendendo mentalmente nota di alcuni argomenti che potevano trovare luogo nel saggio che stavo preparando, la libertà necessaria all'artista. L'uomo dalla faccia rossa gettò un'occhiata verso la cabina del pilota, guardò intorno nella nebbia, zoppicò su e giù per il ponte, si capiva che aveva una gamba artificiale, e poi si fermò accanto a me, a gambe larghe, e con una espressione di sottile piacere nel volto. Pensavo, e non mi sbagliavo, che la sua vita era stata, fino allora, tutta consumata sul mare. Sono i tempacci schifosi come questo, quelli che fanno la testa grigia prima del tempo disse, accennando con il capo la cabina del pilota. Penso che ciò non richieda sforzi straordinari, risposi. Mi par semplice come la BCA, sanno la direzione dalla bussola, la distanza, la velocità. Non chiamerei loro lavoro altrimenti che matematica certezza. Sforzi, e gli sbuffò, semplice come la BCA, matematica certezza. Mi sembrò che sergesse su se stesso, tendietreggiando, e che la sua figura si disegnasse più magra, mentre mi squadrava. Che ne dite di questa marea, che va impetuosa verso Golden Gate, domandò, o, meglio Mugi, a che velocità corre? Quale forza ha? Ascoltate un po', per piacere. Sentite la campana d'una boa, stavano per passarvi sopra. E adesso, vedete, mutano la rotta. Giungevano attraverso la nebbia, quasi lugubri, i rintocchi d'una campana, e io potei vedere che il pilota girava la ruota del timone rapidissimamente. La campana, che prima m'era sembrato fosse a prua, si udiva adesso a sinistra. La nostra sirena fischiava rauca, e, di tanto in tanto, il suono di altre sirene giungeva a noi, attraverso la nebbia. Quello è un qualche piroscafo, soggiunse il mio interlocutore accennando ad un fischio udito sia destra e lì. Sentite, è un suono di corno. Qualche chiata o qualche goletta, molto probabilmente. Ah, me l'immaginavo, qualcuno va all'inferno, adesso. La sirena del piroscafo invisibile fischiava a brevi intervalli, mentre la voce del corno risuonava lacerante e spaurita. E ora si fanno dei complimenti l'un l'altro, cercando di vedersi, continuò l'uomo dalla faccia rossa, mentre cessava il precipitato zuffolamento. Il suo volto era luminoso e gli occhi gli sfavillavano, mentre traduceva in linguaggio umano il dialogo dei corni e delle sirene. Questa è la sirena di un piroscafo che passa lì a sinistra. E sentite quest'altra con un ranocchio nella strozza? È una goletta a vapore, che naviga contro corrente, molto vicina, mi pare. Il suono acuto d'un fischietto che sembrava impazzito su di proprio innanzi a noi, vicinissimo. I gong del martinet squillarono. Le nostre ruote a pale si fermarono, e il loro battito pulsante cessò, per ricominciare un istante dopo. Il suono del fischietto, simile allo stridore d'un grillo tra i ruggiti d'un serraglio, corse di nuovo, e con maggiore foga, attraverso la nebbia, passandoci rapidamente vicino, per allontanarsi veloce e affievolirsi, fino a spegnersi, mi bolsi al mio compagno per sapere. Una di quelle lance indemoniate, disse, ma avrebbe quasi fatto piacere se fosse andato a picco. Quel brigante, cagionano un sacco di guai e non sono buone a nulla. Ogni asino che vi si imbarca si crede in obbligo di correre, come se fuggisse il diavolo, fischiando disperatamente per avvertire il mondo circostante di guardarsi, perché egli non può farlo per sé e sta per sopraggiungere. E' un'indecenza. L'esagerazione della sua collera mi aveva divertito, e mentre egli andava su e giù, zoppicando, io ripresi a fantasticare sul romantico della nebbia. Che romantica è certamente? La nebbia, simile all'ombra d'un infinito mistero, macchia, covandola, la ruotante superficie della terra, e gli uomini, atomi di luce e di fango, corrono ansiosamente al lavoro, sui loro corsieri di legno ed acciaio, aprendosi la via attraverso l'invisibile, gridando e suonando in fidente linguaggio, mentre il loro cuore è pieno di incertezza e di paura. La voce del mio compagno mi richiamò a me stesso, e risi. Anch'io ero andato avanti i tastoni, mentre credevo di poter attraversare, ad occhi aperti, il mistero. È là, qualcuno ci viene incontro. Udite, eccolo. Corre dritto innanzi a sé. Non deve essersi ancora accorto di noi. Il vento gli è contrario. La brezza fresca che ci veniva incontro mi permise d'udire distintamente, di fianco e un po' innanzi, la sirena che si avvicinava. Un piroscafo, domandai. L'uomo dalla faccia rossa sentì con un cenno del capo, e rispose, cosa volete che sia per correre così? Ebbe un breve sagginio. Cominciano a preoccuparsi, lassù. Guardai in alto. Il capitano, affacciato al finestrino della cabina del pilota, figgeva gli occhi nella nebbia, come se, sotto l'intensa forza di volontà, fidasse di riuscire a farvi penetrare il proprio sguardo. Il suo volto esprimeva l'ansia, come pure quello del mio compagno che era corso al parapetto, e guardava con uguale attenzione verso l'invisibile pericolo. Poscia tutto avvenne con rapidità inconcepibile. La nebbia parve squarciarsi, come se fosse stata spaccata da un cuneo, e la prua d'un piroscafo emerse, infestonata da ogni lato di brandelli di nebbia, come alghe sul muso di uno squalo. Potei scorgere su, nella cabina del pilota, affacciato, un uomo dalla barba canuta, che guardava fuori appoggiandosi sui gomiti. Vestiva una divisa azzurra, e ricordo come apparisse azzimato e tranquillo. La sua calma, in quelle circostanze, era davvero terribile. Accettava il destino, camminava con esso dandogli la mano, e ne attendeva freddamente la percossa. Di lassù, sporgendosi, lasciava cadere su noi il suo sguardo calmo e pensoso, come se avesse voluto determinare esattamente il punto della collisione, e sembrava non curarsi d'altro. Quando il nostro pilota, bianco in volto per l'ira, gli gridò, ora sì che l'avete fatta, ripensandovi, considero che l'osservazione era così evidente, che rispondervi era proprio inutile. Afferratevi a qualche cosa e tenetevi ci sumidisse l'uomo dalla faccia rossa. Tutto il suo spirito sarcastico se n'era andato, sembrava che anche egli fosse stato colto dal contagio di quella calma soprannaturale. Adesso sentirete le grida delle donne disse con volto arcigno, e quasi amaramente, come se la sua memoria, pensai, gli avesse ricordate altre simili contingenze. Le due navi cozzarono prima che io potessi seguire il suo consiglio. Dovevamo essere stati colpiti proprio a mezza nave, perché io non vidi nulla, lo strano piroscafo essendo passato fuori della mia visuale, il martinet si sbandò vivamente, mentre l'alberatura si fracassava con grande rumore, fu sbatacchiato sul ponte umido e, prima che potessi rialzarmi, udì le grida delle donne. Furono queste, ne sono certo suoni indescrivibili e terrificanti che mi gettarono nel panico. Ricordai i salvagenti appesi alle pareti, nel salone dei passeggeri, e mi precipitai, ma sulla porta incontrai una valanga bruta di uomini e di donne, che mi respinse. Di quel che accadde nei pochi minuti successivi non ho che un vago ricordo, ho solo memoria ad aver tirati giù dei salvagenti da alte rastreliere, intanto che l'uomo dalla faccia rossa li allacciava attorno al corpo delle donne, serrate in un gruppo convulso. Questo ricordo è netto e distinto come quello di un quadro veduto. Come un quadro che io posso vedere anche ora. La parete del salone era squarciata, e, attraverso il grande buco a margini irregolari, la nebbia grigia entrava turbinando. Le sedie e le poltrone gettate in terra, in mezzo a fagotti, sacchi da viaggio, ombrelli e coperte, mostravano la precipitazione scatenata dalla paura. Il grosso signore che poco prima stava leggendo il mio saggio, involtato di sughero e di tela, e con la rivista ben chiusa in mano, mi domandava con monotona insistenza se credevo che vi fosse pericolo. L'uomo dalla faccia rossa, andando galantemente intorno con la sua gamba di legno, allacciava i salvagenti a chi che sia, e, infine, le donne raggruppate a piangere. Grazie Erano questi pianti che, più d'ogni altra cosa, mettevano alla prova i miei nervi. E anche l'uomo dalla faccia rossa doveva esserne terribilmente scosso, perché davanti agli occhi ma pare un altro quadro, che mai potrà cancellarsi dalla mia mente, il grosso signore caccia la rivista nella tasca del suo soprabito, e si guarda attorno ansiosamente. Una massa confusa di donne, senza forza, con il volto sbiancato e la bocca aperta, urla come un coro di anime perdute. E l'uomo dalla faccia rossa, con il volto imporporato dall'ira e le braccia levate in alto come per scagliare fulmini, che grida, tacete, tacete. Rammento che la scena mi strappò a un improvviso scoppio di risa, e in quel momento capì che anch'io stavo per divenire isterico. Perché tutte quelle donne erano della mia stessa razza, come mia madre e le mie sorelle, e, prese dallo spavento della morte, ad essa si ribellavano. L'orrore della scena mi spinse sul ponte. Stordito e pieno di nausea, mi sedetti su una panca. Nella foschia che mi circondava, avvertivo la precipitazione e le grida degli uomini che cercavano di mettere in mare le scialuppe. Tutto avveniva come avevo letto nei libri, nella descrizione di simili episodi. Le carrucole non giravano. Nessuna cosa funzionava. Una barca scese in acqua piena di donne e di ragazzi, ma aveva la carena sforacchiata e, dopo essersi empita d'acqua, si capovolse. Un'altra barca calò da un solo lato, restando dall'altro sospesa la carrucola. E così fu abbandonata. Dello strano piroscafo causa del disastro non si vedeva nulla, sebbene tutti dicessero che, indubbiamente, avrebbe mandato le sue barche a darci aiuto. Discesi nel ponte inferiore, il martinet doveva affondare rapidamente, giacché l'acqua saliva a vista d'occhio. Molti passeggeri si gettavano in acqua. Altri, che erano già in acqua, gridavano per essere nuovamente tratti a bordo. Ma nessuno se ne curava. Qualcuno improvvisamente gridò che stavamo affondando. E io fui travolto dal panico che a questo grido seguì e gettato fuori bordo insieme ad un'ondata di corpi. Come giungessi in mare non so, ma subito capii perché quelli che già vi erano, desiderassero tanto di tornare a bordo. L'acqua era fredda, tanto fredda che straziava. L'acutissimo dolore che risentì tuffandomi ci fu vivo e pungente come quello del fuoco. Il suo morso giungeva fino al midollo. Sembrava l'artiglio della morte. Ansavo per l'angoscia e per la scossa subita e l'acqua mi riempì i polmoni, prima che il salvagente mi avesse riportato a galla. Il sapore amaro e acre dell'acqua salata mi riempiva la bocca e quasi mi soffocava. Ma il freddo mi tormentava più di ogni altra cosa. Sentì che avrei potuto vivere ancora per qualche minuto. Nell'acqua, intorno a me, altri lottavano e nuotavano. Li udì chiamarsi l'un l'altro, udì più rumore di remi. Evidentemente lo strano piroscafo aveva messo in mare le sue imbarcazioni. Il tempo passava, e io mi meravigliavo sempre più d'essere ancora vivo. Non mi sentivo più le gambe. Sentivo, invece, il mio cuore avvolto da un torpore gelido che vi si insinuava. Piccole ondate, con la cresta dispettosa e spumeggiante, venivano continuamente a rompersi addosso a me, cacciandomi altra acqua in bocca, e aumentando il senso di soffocazione fino al parossismo. I rumori divennero indistinti, poi udì un ultimo, disperato coro di grida in lontananza, e compresi che il martine era colato a picco. Più tardi non so quanto tempo fosse passato tornai in me con un sussulto di paura. Ero solo, non udivo più né richiami, né grida, soltanto mi giungeva lo scroscio delle onde, fatto più cupo ed eccheggiante dalla nebbia. Il panico di una folla, con la quale sa quasi comunità di interessi, è meno terribile del panico che ci abbatte quando siamo soli, e io ero preso da questo panico. Dove mi trascinava la corrente? L'uomo dalla faccia rossa m'aveva detto che la marea s'abbassava, rifluendo attraverso Golden Gate. Ero dunque trascinato verso l'alto mare? E il salvagente che mi sosteneva? Non poteva andare in pezzi da un momento all'altro? Avevo sentito dire che questi oggetti sono riempiti di carta e di paglia, che si imbevono d'acqua rapidamente, perdendo così la galleggiabilità. Io non sapevo nuotare affatto, e a quel che m'era dato di vedere, ero solo in mezzo ad una grigia immensità primordiale. Sentì che la follia si impadroniva di me, e allora urlai come avevano urlato le donne, battendo l'acqua con le mani intirizzite. Quanto durasse questa angoscia non so, che le tenebre sopraggiunsero, e non mi ricordo d'altro che d'un sopore inquieto e doloroso. Tornando in me, mi parve che dei secoli fossero trascorsi, e vidi, quasi sopra il mio capo, emergere dalla nebbia la prua d'una nave tre vele triangolari, che si profilavano una dietro l'altra, gonfiate dal vento. Dove la prua tagliava il mare, si levava una grande spuma e un rigurgito, mi parve di trovarmi proprio sulla sua rotta. Tentai di gridare, ma ero sfinito. Il tagliamare mi passò vicinissimo, evitandomi appena, e rovesciando sul mio capo un getto d'acqua. Poi lo scafo lungo e nero della nave cominciò a passare, rapido, e così vicino che avrei potuto toccarlo con le mani. Cercai di raggiungerlo, nella folle speranza di aggrapparmi al legno con le unghie, ma le mie braccia erano pesanti e senza vita. Nuovamente provai a chiamare, ma non mi fu possibile emettere alcun suono. Anche il timone della nave passò, gocciolante, lanciandomi nel cavo della scia, afferrai con lo sguardo un uomo che stava alla ruota del timone, e un altro uomo che sembrava non avesse altra faccenda, che quella assai lieve, di fumare un sigaro. Ma accorsi che il fumo gli usciva dalle labbra, mentre, girando lentamente il capo, guardava sull'acqua nella mia direzione. Era uno sguardo superficiale, gettato fortuitamente, uno di quei movimenti casuali, che gli uomini compiono quando non hanno da far nulla di preciso, ma agiscono perché vivono, e debbono far qualcosa. Ma la vita e la morte erano in quello sguardo. Vidi la nave inghiottita progressivamente dalla nebbia, vidi la schiena dell'uomo al timone, e la testa dell'altro uomo che si volgeva, si volgeva lentamente, intanto che il suo sguardo seguiva il movimento dell'acqua e, ormai, stava per giungere a me. La sua faccia aveva un'espressione assente, come se egli fosse tutto preso da un unico pensiero, e temei che i suoi occhi, anche raggiungendomi, non mi vedessero. Ma i suoi occhi mi incontrarono e si fissarono nei miei, ed egli mi vide, perché balzò alla ruota, spinse via il timoniere e girò, girò, incrociando rapidamente le mani, e gridando nello stesso tempo ordini che non giungevano fino a me. Il veliero sembrò tracciare una tangente alla via fino all'ora seguita e, quasi nello stesso istante, scomparve nella nebbia. Sentì che scivolavo nell'incoscienza, e mi sforzai, con tutta l'energia di cui ero capace, di lottare contro le tenebre soffocanti che si levavano intorno a me. Più tardi percepì un rumore di remi che si avvicinavano sempre più, e gli appelli di un uomo. Quando mi fu vicino, lo udì gridare con voce stizzita. «Che diavolo aspettate per farvi uscire il fiato?» Immaginai che avesse detto a me, poi le tenebre m'avvolsero di nuovo. «Che diavolo aspettate per farvi uscire il fiato?» Grazie a tutti